Eccolo! Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video! In questo video, come avrete letto dal titolo e come avrete visto dalla copertina, Seluri Arrana ragazzi, Seluri Arrana! Dunque mi raccomando ragazzi, superiamo i 110 mi piace per questo video, mi raccomando lasciate like, condividete il video, iscrivetevi al canale se non siete più iscritti, mi raccomando condividete il video ai vostri amici nabbi che non sanno prendere i Seluri Arrana e a tutti quelli che volete far rosigare! Dunque mi raccomando ragazzi, presto arriveranno anche altri video dove spiego un attimo di più la tecnica che utilizzo per prenderli, che non è semplicemente lanciare la rana e aspettare che il Seluri mangi, ci sono delle piccole accortezze da prendere, lasciatemi un po' di commenti qua sotto e direi... via con il video! Urca! Era il Siluro là! L'avete visto? Avevo visto l'onda! Porca troia! Si aspettava! Porca troia l'ha mancato! Porca troia l'ha mancata! Porca troia avevo visto un movimento, sapevo di un Siluro là! Però l'ha mancata! Dov'è l'ha mancata! Dov'è l'ha mancata! Dov'è l'ha mancata! Il Siluro è sui canneto! l'ho mosso no dai tu hai già fatto uno c'è arrivato un millimetro ho tirato una scodata a un millimetro più o meno si ce l'ho tirato in tanna credo bello ma come ho mosso il cannello non ci sono non ci sono non ci sono non ci sono Occhio Eccolo Oh questo è mosso comunque Sono le mani che mi tremo là E' in mezzo di quei canetti là alla via a sinistra E' sul canetto qua davanti a me Un po' più in chi no La L'ho buttato in canetto quindi non lo vedo Non No Cazzo si è mosso la cannella là Eccolo Eccolo Preso 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 C'ho il guadino in macchina se vuoi C'ho il guadino in macchina se vuoi Piccolino Mangiata epica rana raga Mangiata epica Sulla rana Ho visto le cannelle muoversi e ho detto eccolo qua Eccolo qua infatti Sto utilizzando una canna da estrazione pura perché stiamo pescando su erbai Come vedete canna da pitching Un bel pesciotto sarà sul metro Vediamo di tirarlo fuori Il cancaro Vuole tagliare sulle erbe Voglio andare a impigliarsi Sì sì Guarda che ti conviene il guadino Sì Sarà un 4 kg per un metro questo Sarà un 4 kg per un metro Ci fai occhio a non cadermi 4-5 kg Hai visto? Vai 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 Non so il 35 Sì sì non tiro tanto Sì sì non tiro tanto Sì ho detto che era meglio guadino No 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 Non sto tirando eh Vai a prendere guadino guarda vai meglio Porta? Eh quindi così non riesco Vai Ce l'abbiamo Dammi lascia qua Allora lo porto su Vai Boom baby Poi guanti? No Eccolo qua Finalmente Arrana ragazzi Finalmente dopo 10 no 10 no 7-8 siluri persi Arrana Sì slamati La maggior parte Guardate qua Un bel silurotto Non è un big Non è un big Da un metro ottanta Però Arrana c'è più gusto Allora lo porto su Sous-titrage Société Radio-Canada